lo confesso adesso avevo sempre trovato noiosissima la storia dell'invenzione della stampa e dei primi tipografi senza saperne niente naturalmente e invece quando qui ho verificato diciamo ho fatto uno studio di fattibilità ecco per vedere cosa avrebbe voluto dire davvero andare a studiare le prime generazioni di questa famiglia di editori di stampatori fiorentini e poi veneziani del quattrocento del cinquecento mi sono reso conto che era una ricerca pazzescamente divertente allora buonasera a tutti eccoci di nuovo qui per un'altra importante intervista e stasera siamo qui con il professore alessandro barbero grazie mille professore per la disponibilità ci mancherebbe allora questo barbero non ha bisogno di introduzioni particolari molti lo conoscono per uno storico forse non tutti sanno che anche un romanziere e proprio ieri invece è uscito un altro volume di cui parleremo tra poco inventare i libri quello che mi interessava era proprio questo rapporto fra lo storico e il romanziere perché la storia è fatta in fondo di storie si affronta meglio questa dualità con gli strumenti dello storico oppure quelle quelle del romanziere del narratore del divulgatore diciamo che allora per me è più facile scrivere libri di storia che non scrivere romanzi ecco questa non so se la risposta alla sua domanda ma è la prima cosa che mi viene in mente di dire scrivere libri di storia è molto più facile lei diceva giustamente che in comune c'è la storia lo storytelling raccontare delle storie io aggiungerei un'altra cosa c'è la scrittura la scrittura è una parte fondamentale del lavoro dello storico da sempre infatti da sempre gli storici si interrogano quando hanno voglia di perdere tempo sul fatto che la storia sia un'arte oppure una scienza perché ovviamente la storia non è una scienza esatta perché non si basa su esperimenti ripetibili e quindi non si basa su dimostrazioni inattaccabili però al tempo stesso è scientifica perché come dire ha una serie di regole che vanno rispettate se si vuole che un lavoro sia accettabile e quindi è però al tempo stesso è artistica perché consiste nello scrivere per cercare di convincere ecco lo storico a volte può dimostrare qualcosa ma più spesso si convince che le cose sono andate in un certo modo e cerca di trascinare il suo lettore sulla stessa strada al tempo stesso lo storico è abituato a scrivere perché ci sono sempre state anche altre forme di scrittura oltre al saggio storico vero e proprio per addetti ai lavori gli storici hanno sempre scritto anche opere divulgative anche se in Italia una volta ci si lamentava che lo facevano solo gli inglesi e gli italiani non lo facevano ma comunque diciamo nel mestiere dello storico è sempre stata contemplata anche la possibilità di scrivere per un grande pubblico poi gli storici hanno sempre scritto le dispense per i loro studenti e spesso anche libri scolastici manuali scolastici ora in tutti questi casi tu devi maneggiare la scrittura e ti devi rendere conto che si può scrivere in modi molto diversi a livelli diversi in base al pubblico a cui ti rivolgi e allora in definitiva scrivere un romanzo è soprattutto un altro tipo ancora di scrittura da affrontare dopodiché la grande differenza che per me rende più difficile scrivere un romanzo è che il libro di storia certo che sei tu che lo costruisci sei tu che decidi come organizzare gli argomenti e anzi una delle grandi difficoltà quando si scrive un libro di storia è proprio quella che gli argomenti si sovrappongono si mescolano ed è difficile separarli e creare un percorso pulito diciamo così però se non altro sono tutte cose che sono successe davvero tu non devi inventare niente mentre nel romanzo devi inventare certo ma professore lei ha parlato di scrittura infatti lei ha scritto molti libri adesso non li posso citare ma alcuni li metterò sicuramente nella nella descrizione sotto il video si è occupato di storia medievale di storia militare quindi ha diciamo ha fatto monografia prima ho citato quella di dante posso citare quella su costantino federico il grande carlo magno le battaglie di di lepanto e molte altre però è diciamo la storia è anche fatta dalle storie dei sommersi di quelli che hanno non hanno lasciato voci forti storie individuali milioni di storie individuali che sono spesso rivoli sotterranei fiumi carsici che spesso possono anche non affiorare mai quindi diciamo come fa lo storico ad affrontare questo tema cioè ad avvicinarsi a quel limite oltre il quale c'è il silenzio c'è la la testimonianza integrale che spesso è indicibile sono le storie dei dei sommersi come insomma riprendendo il titolo di primo levi sommersi salvati ecco come facciamo a parlare dei sommersi dal punto di vista dello storico dunque la premessa naturalmente è che lo storico non può parlare di tutto e noi non possiamo sapere tutto anzi noi sappiamo pochissimo man mano che ci si avvicina la nostra epoca sappiamo di più perché la quantità di materiale di fonti prodotte da una società e dalle sue istituzioni aumenta col passare del tempo e quindi in teoria io oggi se volessi fare una cosa completamente assurda cioè dedicare molti anni di vita a fare l'elenco di tutti i soldati italiani che erano presenti alla battaglia di caporetto approssimativamente lo potrei anche fare senza illudermi della sicurezza assoluta perché poi anche quella è un'illusione però lo potrei anche fare e non servirebbe a molto naturalmente mentre io non conosco il nome nemmeno di un singolo legionario romano che sia morto alla battaglia di canne e non lo saprò mai quindi è impressionante la quantità di cose che noi non sappiamo specialmente dell'antichità e ancora anche del medioevo e lo storico in realtà non ne fa un dramma perché è proprio parte integrante del nostro addestramento si può parlare Wittgenstein in fondo parlava per noi quando diceva di ciò di cui non si può parlare si deve tacere deve tacere detto questo però naturalmente nulla di questo va inteso in senso assoluto in generale noi conosciamo molto meglio le classi dirigenti rispetto al popolo così come in generale conosciamo meglio gli uomini rispetto alle donne per esempio perché il tipo di fonti che le varie epoche ci hanno lasciato illuminano di più quelli che prendono le decisioni rispetto a quelli che le subiscono e illuminano di più chi era attivo negli spazi pubblici gli uomini rispetto a chi viveva la sua vita in spazi privati come le donne questa è una limitazione a cui è impossibile sfuggire però di più o di meno non vuol dire tutto o niente noi sappiamo in realtà tante cose anche della vita della gente comune come sappiamo tante cose delle donne per fortuna bisogna proporsi di andarle a cercare e una differenza è diciamo la possibilità di acchiappare l'individuo mentre la storia comprende un sacco di nomi di persona di persone realmente vissute nella stragrande maggioranza dei casi questi sono persone che sono state importanti al loro tempo e maschi ecco ogni tanto ovviamente un colpo di fortuna ti permette di ricostruire la vita di una persona qualunque alcuni tra i libri più famosi della storiografia del novecento si sono basati proprio su quello il successo di un libro come il formaggio ai vermi di Carlo Ginzburg il successo di massa diciamo al di là del fatto che è un libro assai sofisticato e complesso però l'idea che se si parlava di un mugnaio di una persona qualunque e di quello che davvero quella persona qualunque pensava e come questo è stato molto importante allora nel novecento per fare il successo di questo libro quindi ogni tanto il colpo di fortuna c'è anche a me è capitato ogni tanto di imbattermi in un documento meraviglioso in cui emerge la vicenda specifica di una persona qualunque o di una donna qualunque del medioevo però al di là di questo al di là di questo noi possiamo rinunciando a cogliere i singoli individui però sapere molte cose sui gruppi umani nel loro insieme poche di poche donne del medioevo io posso fare la biografia però sul su com'era la vita in genere delle donne del medioevo già soltanto le novelle del boccaccio per esempio mi danno una quantità di informazioni strabiliante bisogna andarle a cercare e sapere costruire sulla base di quei materiali certo una volta lei ha detto in un'intervista non tanto recente le hanno chiesto cos'è la storia lei rispose la storia è tutto però naturalmente non tutto nella storia viene registrato e quindi si può dire solo quello che possiamo dire però tra ecco per passare invece diciamo anche al tema del suo più recente libro che in fondo tocca gli argomenti di cui abbiamo parlato adesso lei è andato a pescare diciamo i documenti che hanno dato la possibilità di ricostruire la storia dell'editore giunti partendo da molto lontano forse in un tempo un po indefinito però in un posto invece abbastanza preciso allora le dico solo una cosa e poi la lascio continuare cioè un po de ruzzo due ragazzi di periferia in un po de ruzzo di che si tratta allora si tratta di questo il libro naturalmente nasce da da una sollecitazione dell'editore giunti che mi ha proposto di affrontare questo argomento e io devo dire che mi sono lasciato trascinare da questa proposta all'inizio in modo inaspettato perché lo confesso adesso avevo sempre trovato noiosissima la storia dell'invenzione della stampa e dei primi tipografi senza saperne niente naturalmente e invece quando qui ho verificato diciamo ho fatto uno studio di fattibilità ecco per vedere cosa avrebbe voluto dire davvero andare a studiare le prime generazioni di questa famiglia di editori di stampatori fiorentini e poi veneziani del 400 del 500 mi sono reso conto che era una ricerca pazzescamente divertente perché in realtà appunto ti diverti quando ci c'è da cercare delle fonti che magari non sono proprio lì sotto gli occhi di tutti o almeno ti diverti no noi medievisti facciamo quello ecco per esempio un contemporaneista può fare può scrivere un libro usando i giornali dell'epoca fascista per esempio non è difficile trovarli vai in biblioteca ti leggi tutte le annate del corriere e impari un sacco di cose sull'italia fascista in questo caso invece è una tipica ricerca da medievista che comporta l'andare in archivio o comunque il contattare gli archivi per farsi mandare fotografie di documenti sperando di azzeccare quello giusto leggere documenti scritti nelle tremende grafie del 400 e del 500 perché devo dire che nel pieno medioevo scrivevano in modo chiarissimo e facilissimo ma nel rinascimento scrivevano in un modo spaventoso ecco e e godere della possibilità di lavorare su fonti fantastiche come sono per esempio i catasti fiorentini perché quando il governo di firenze nel 1427 si mette in testa di costringere ogni singola famiglia che abita a firenze a fare una dichiarazione dei redditi in cui dichiara dove abita quanta terra possiede il poderuzzo per l'appunto no ecco e poi ogni pochi anni si rifanno queste dichiarazioni ecco io che non ne sapevo niente sono stato in grado di andare a scoprire che appunto chi era esattamente questo giunta i cui figli sono diventati miliardari facendo facendo gli stampatori e di verificare che lui invece era un poveretto era un ragazzo di periferia che si è arrabbattato per tutta la vita ha messo sul negozietto poi ha fatto fallimento ha comprato casa con enorme fatica era ecco era la persona lui sua moglie erano le persone qualunque di cui parlavamo prima salvo che poi appunto in quell'italia vivacissima dal punto di vista intellettuale ma anche economico finanziario che era l'italia del quattrocento i figli di questo ragazzo di periferia sono diventati appunto due imprenditori straricchi e famosissimi Filippo e Luca Antonio che continuano la diciamo l'azienda di famiglia su due rami diversi sia dal punto di vista diciamo del luogo perché uno si rimane a Firenze Filippo mi pare rimane a Firenze mentre Luca Antonio si trasferisce quasi subito a Venezia e hanno anche un'agenda culturale diversa perché pubblicano libri diversi sì no infatti è interessantissimo perché appunto se fosse soltanto la storia di imprenditori di successo sarebbe interessante senza dubbio se fosse solo una storia intellettuale dei libri che si stampavano nel rinascimento sarebbe interessante anche quello qui invece ci sono le due cose insieme cioè tu puoi ricostruire a volte anno dopo anno addirittura il progresso di un'azienda i suoi successi i suoi fallimenti i suoi investimenti il suo bilancio attraverso i documenti fiorentini si vede Filippo che allarga la bottega poi ne compra un'altra compra casa sopraeleva fa dei lavori assume garzoni e al tempo stesso si vede Filippo che decide di pubblicare i libri degli umanisti o la prima edizione del Decameron o cose del genere e quindi e discute con gli umanisti sui libri che vuole pubblicare quindi c'è questa doppia cosa storia di imprenditori storia d'impresa e storia intellettuale del rapporto fra gli intellettuali dell'epoca e quegli editori che gli intellettuali disprezzavano enormemente che consideravano roggi grossolani avidi con cui avevano un rapporto tremendo e questo è anche molto divertente per uno scrittore di oggi vedere come era allora il rapporto fra lo scrittore e il suo editore dopodiché sì uno degli aspetti divertenti è proprio questo vedere Filippo che non è soltanto il tipografo il tecnico l'uomo di mestiere ma a un certo punto comincia a appassionarsi a quello che pubblica comincia a pensare di essere uno che è in grado appunto di discutere con gli umanisti di discutere con i letterati sia lui sia poi suo figlio hanno interloquiscono con questa gente che un po' li guarda dall'alto in basso e un po' però accetta anche di discutere con loro e fa un'attività significativa che ha un suo ruolo nella cultura fiorentina dell'inizio del cinquecento dall'altra il fratello Lucantonio che va a Venezia in una città che a quell'epoca era ormai molto più ricca di Firenze e che pensa solo a fare i soldi non pensa nient'altro che a questo essenzialmente stampa libri da messa per il clero cosa che a noi può far arricciare il naso perché ci sembra che il valore culturale sia molto basso il problema è che il clero era una potenza la chiesa era una grandissima multinazionale straricca e strapotente il clero aveva un bisogno enorme di strumenti di lavoro e quindi messali, breviari, antifonari e Lucantonio produce questo in edizioni di lusso in edizioni invece tascabili o poco costose o così via con le illustrazioni senza per molto tempo non fa quasi nient'altro e lui diventa straricco mentre invece il fratello Filippo a Firenze va benino però non è che fa proprio ecco mi sono sbagliato prima non diventano miliardari tutti e due solo Lucantonio diventa miliardario. Però una ecco è una delle cose interessanti che ho trovato di cui lei tiene nota attraverso tutto il libro e le varie vicissitudini di questa famiglia è il fatto che a un certo punto e molto lentamente si passa dal patronimico degiunta o simili verso il cognome vero e proprio che indica anche un passaggio di un certo tipo. Eh sì perché la storia dei cognomi è una cosa molto interessante e solo da poco tempo che noi storici ce ne siamo accorti tant'è vero che gli studiosi che si occupavano dei giunti un po' di tempo fa credevano che semplicemente la famiglia si chiamasse giunti e basta e che il vecchio giunta il papà dei due ragazzi si chiamasse giunta giunti invece non è affatto così perché il punto è che i cognomi che sono una creazione del medioevo prima i barbari avevano il nome e basta naturalmente o il nome il patronimico ecco ragnacario figlio di fredegario ecco i cognomi sono un'invenzione medievale sono soprannomi che si appiccicano ai discendenti di una persona però non a tutti e non allo stesso modo perché non è un processo come dire garantito da una qualche anagrafe di stato è una cosa spontanea la gente comincia a dire a un certo punto i figli di alighiero i nipoti di alighiero sì gli alighieri li conosci gli alighieri sì sì abitava davanti alla torre della castagna quello là com'è già quello là degli alighieri dante ecco sì gli alighieri però invece se non fosse che gli alighieri contavano qualcosa in città e che parecchia gente nel quartiere li conosceva non li avrebbero chiamati così la gente normale a firenze e con i nostri giunti siamo a firenze la gente normale era conosciuta col nome di battesimo e il nome del babbo e basta solo le famiglie che contavano avevano un soprannome e quindi un cognome uguale di famiglia di padre in figlio e lì a me questa cosa ha sempre divertito molto perché fra l'altro è curioso che a firenze che era al vertice della civiltà italiana dell'epoca la maggior parte della gente non aveva il cognome mentre in una regione periferica come il mio piemonte già nel 200 i cognomi erano diffusissimi per esempio ma perché in realtà erano un segno di arretratezza questi cognomi quando i contadini avevano dei contratti d'affitto eterni perpetui di padre in figlio fissi bloccati quindi una società poco mobile e allora era necessario che ogni famiglia avesse il suo cognome mentre in una città come firenze piena di gente nuova di immigrati di gente che andava e veniva del cognome non importava niente a nessuno tranne appunto per le famiglie importanti allora lì il bello è che giunta e si chiama giunta certo e poi col nome del padre basta e i suoi figli sono i figli di giunta e quindi filippo di giunta però siccome probabilmente anche loro sono consapevoli che avere un cognome è uno status symbol nella loro firenze ecco che allora quando può filippo comincia a far credere che lui non è filippo di giunta ma è filippo giunti e se la gente accetta è fatta perché la gente comincia a dire i giunti e chi sono i giunti sì gli stampatori il presente certo certo i giunti è fatta a quel punto hai il cognome dal resto e diciamo questa ambizione era ben fondata perché subito dopo la prima generazione di filippo luca antonio che poi vive mi sembra più a lungo c'è la seconda generazione che porta diciamo la compagnia a una internazionalizzazione per cui troviamo giovanni in spagna giacopo a roma ora non ricordo giunti quindi c'è questa questa fase portata avanti dalla terza dalla seconda generazione di stampatori che poi non erano mai editori che poi erano anche stampatori cartai eccetera è vero sì sì no perché poi loro allora intanto è bellissimo perché a Firenze le corporazioni raggruppavano quelli che si occupavano più o meno delle stesse cose e esisteva una corporazione che è quella a cui era iscritto anche Dante a suo tempo ma Dante si era iscritto solo perché era obbligatorio per fare politica quindi era come prendere una tessera di partito in sostanza però quelli che davvero lavoravano avevano davvero un commercio esisteva una corporazione che si chiamava dei medici speciali e cartai no e merciai mi scusi merciai perché in realtà appunto i medici erano pochissimi non potevano fare una corporazione soltanto da loro quindi anche gli speciali che vendevano le medicine però gli speciali vendevano anche i coloranti quindi anche i pittori si iscrivevano poi gli speciali vendevano anche ferramenta e allora un altro che vendeva ferramenta ma non spezie un merciaio faceva parte della stessa corporazione e quelli che si occupavano di carta e di pergamena e fino a quell'epoca la pergamena era più importante della carta come supporto per scrivere ma dal 300 in poi invece la carta sorpassa la pergamena perché costa molto meno allora anche quelli sono un tipo specifico di merciai ci sono i merciai specializzati in ferramenta ci sono quelli specializzati in pergamena e carta e fanno tutti parte della stessa corporazione dopodiché se sei specializzato in pergamena e carta che sia una risma di carta bianca o che sia un libro non cambia niente sempre carta è quindi sia quello che smercia la carta bianca per chi l'ha bisogno sia il venditore di libri sono nella stessa categoria merceologica la carta e di conseguenza anche quando nasce la stampa gli stampatori fanno parte di quella corporazione lì che ci sia scritto qualcosa sopra o no dal punto di vista delle autorità non cambia niente allora andiamo andiamo verso la conclusione altra cosa che mi aveva colpito molto il fatto che tutti i rami della famiglia giunti si specializzano per cui prima abbiamo detto appunto che luca antonio si occupa di libri religiosi a firenze si occupano maggiormente invece di libri appunto pubblicano classici greci e latini però giacopo jacopo a roma per esempio pubblica mi sembra spartiti musicali mentre ecco quindi c'è una specializzazione oltre che un'internazionalizzazione diciamo del lavoro sì la specializzazione di per sé non era una delle regole dell'epoca devo dire all'epoca chiunque fosse nel commercio coglieva l'occasione quando capitava ecco non c'era nessuno che diceva no no io di quella cosa io non me ne occupo perché non è il mio ramo poi tutti potevano avere una specializzazione maggiore per l'appunto ma tendenzialmente l'idea era quella di un'economia dove appunto non lasciavi passare nessuna occasione e proprio per quello è interessante vedere che invece appunto i singoli giunti individuano a volte dei mercati diversi però non è sempre così e noi abbiamo l'inventario per esempio mi pare della bottega di salamanca del ramo spagnolo e dentro c'è di tutto di tutto di tutto i classici la letteratura moderna ogni sorta di cose cioè in generale appunto questi che si specializzano sono non sono nella norma sono piuttosto quelli che per qualche motivo loro hanno individuato filippo si specializza nei classici proprio perché lui a un certo punto gli prende il trip di essere un intellettuale e di trasformare la sua bottega in un luogo dove vengono gli umanisti a discutere anche se c'era una competizione forte col figlio bernardo con filippo perché credeva di essere forse meglio di lui nel tenere questi rapporti con i vari umanisti nelle storie delle aziende il momento del trapasso generazionale è spesso un momento drammatico se pensiamo alla storia della fiat per esempio come veramente lì si vede la contrapposizione fra una generazione e l'altra ogni volta e quindi sì sì filippo ha avuto i suoi problemi con bernardo anche perché appunto filippo era un ragazzino anche lui nato povero e poi diventato un imprenditore di successo bernardo c'è nato con la ditta già avviata e quindi a lui riusciva più facile mantenere i rapporti con gli studiosi forse scriveva addirittura lui a volte le prefazioni delle sue edizioni di sicuro le firmava poi si spettegolava sul fatto che si facesse a scrivere da altri però può darsi secondo me che in qualche caso scrivesse davvero lui filippo non ce l'avrebbe fatta a scrivere una prefazione quindi è chiaro che un po di gelosia del papà verso il figlio ci doveva un po di insofferenza del figlio verso il padre ci doveva essere ecco cito nel finale solo un'ultima cosa di cui non abbiamo bisogno di parlare ma c'è anche questa parte interessante diciamo della competizione con l'altro grande editore dell'epoca aldo manuzio per cui la troverete nel libro appunto che è uscito ieri lo ripeto poi lo metterò anche in sovraimpressione inventare i libri mi piace finire come faccio spesso insomma con una con una citazione che sono le ultime frasi luca antonio il giovane si farà luca antonio era il figlio appunto il nipote di luca antonio si farà ancora più onore di quello che lo zio spicava e allargerà con successo l'azienda diventando così ricco da comprarsi un palazzo sul canal grande e anche a firenze sarà il figlio maggiore di bernardo chiamato filippo come il nonno a dare vita a una vera grande casa editrice ma quella che abbiamo raccontato era la storia di due ragazzi di periferia cresciuti nella casetta di borgo ogni santi e quella storia finisce qui allora professore grazie mille per la sua disponibilità ricordo tutti che potete trovare anche nella descrizione qua sotto tutti i riferimenti e davvero grazie ancora per il grazie 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 a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti